Ammontano a più di 11 milioni di euro i finanziamenti assegnati dalla Regione Marche ai Comuni per aiutarli a rendere più agevoli e sicure le strade di loro competenza. È questo il risultato dei bandi in cui la Regione ha messo a finanziamento 139 progetti su 215 depositati dai Comuni. Per quel che riguarda la provincia di Pesaro e Urbino saranno 23 i Comuni che beneficeranno di finanziamenti da utilizzare su interventi di pavimentazione stradale, consolidamento punti, asfaltature, percorsi ciclopedonali o miglioramento della viabilità. Al Centro per l'impiego di Pesaro l'assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli ha riunito buona parte dei sindaci interessati per la presentazione dei suddetti bandi. La Regione Marche investe ben 11 milioni del proprio bilancio per attivarne altre 9, quindi 20 milioni di euro che verranno messi a terra che vanno a finanziare i Comuni. Come ben si diceva non si vanno più a finanziare, ad inseguire le emergenze ma si vanno a programmare interventi per la sicurezza e il decoro urbano nell'arteria stradale di competenze dei Comuni. Questo per evitare in futuro che si creino proprio quelle emergenze sulla sicurezza. Nel regolamento dei bandi è previsto che ai Comuni sia richiesta una compartecipazione di almeno il 30% per quel che riguarda i costi di realizzazione. Una quota che aggiunta agli oltre 2 milioni assegnati dalla Regione porterà a un investimento complessivo superiore ai 3 milioni di euro sulla provincia di Pesaro Urbino. Provincia che vede 23 Comuni interessati, ovvero Monte Calvo in Foglia, Sasso Corvaro Auditore, Lunano, Monbaroccio, Mondavio, Mondolfo, Gabicce Mare, Piobbico, San Lorenzo in Campo, Cagli, Frontone, Macerata Feltra, Pergola, Pian di Meletto, Terre Roveresche, Cantiano, Monte Grimano Terme, San Costanzo, Apecchio, Urbagna, Vallefoglia e il capoluogo Pesaro. Essendo stato sindaco per dieci anni in un comune della nostra regione ritengo che i sindaci vadano sostenuti in questa azione volta a garantire la sicurezza dei cittadini, vista la penura di risorse che a volte nei bilanci vengono destinate alle infrastrutture e alla sicurezza. Quindi un intervento sistematico che riguarda tutta la regione e che copre le esigenze di almeno il 62% dei comuni marchigiani. Per la prima volta non si assegnano risorse ad hoc a quel sindaco o all'altro comune ma si assegnano importanti risorse regionali sulla base di un bando della regione Marche a cui tutti hanno potuto partecipare.